Borsone per la palestra o per la piscina, per quale ragione? Lo vediamo tra un secondo, 28,99€, devo dirlo, a me non ha colpito particolarmente questo prodotto, né ho altri in casa che sono più qualitativi. Qua parliamo per lo più di plastica nera che è stata utilizzata per fare questo prodotto. Andiamo ad aprire il contenitore, il coperchio qua superiore della sacca e vedere internamente come è organizzata. Ha uno scompartimento qui laterale che può essere utilizzato per gli oggetti personali e poi abbiamo la cinghia per portarla a tracolla. Vedete anche le plastiche come sono, non è che siano particolarmente eccelsi, le plastiche anche qua nella parte della cinghia ma nella parte in fondo, lo vedete, c'è questa sorta di sacca che si aggancia al lato destro e parte da questa tasca che è di fatto la parte che viene considerata impermeabile dove ci entra, lo vedete, un mezzo braccio dove si possono andare a collocare o le cose bagnate o tipicamente le scarpe per separarle. dal resto della borsa per cui mettendole qua dentro restano separate dal resto dell'abbigliamento e sicuramente sul piano igienico è un qualcosa di apprezzabile. Detto ciò però non possiamo dire che sia un prodotto eccellente per la qualità dei materiali perché veramente al limite della sufficienza si ha proprio una sensazione di plastica quasi di sacchetto e quindi non è che sia particolarmente duraturo, né particolarmente alla moda, né particolarmente curato, né particolarmente proprio nulla. Qui altre tasche, una con il velcro, una con la zip da questo lato, mentre di qua abbiamo una tasca esterna a velcro con chiusura a velcro per mettere ulteriori cose che ci possono servire, nessuna rete interna nel coperchio per sfruttare quello spazio e ancora una piccola sacca, o meglio tasca qua, da questo lato sull'altro fianco e questo è tutto. 28 euro e 99 secondo me non è tanto il prezzo che sia in discussione perché una buona borsa può costare anche 3-4 volte ma è quello che è in discussione la qualità dei materiali perché spendere 28 euro per un qualcosa che si ha la sensazione sia scadente quando arriva non è poi così piacevole.